Puoi scoprire un meraviglioso giro d'anello che tocca una moltitudine di laghi a cavallo tra Italia e Francia? Allora ti porto con me al giro dei laghi di Sant'Anna di Vinale. Questa escursione è molto semplice, panoramica e presenta poco dislivello e oltretutto è uno degli anelli più affascinanti delle Alpi Marittime. Proprio per questi motivi i laghi di Sant'Anna sono tra le mete più ambite in estate tra gli escursionisti. Se ti è piaciuto salva il ril e mettimi un like. Alla prossima! Alla prossima!